Resta alta l'attenzione su Casa Roverella, residenza per anziani pesarese facente parte del consorzio di Santa Colomba in cui da venerdì scorso è stato rilevato un focolaio di Covid-19 che ha coinvolto 40 ospiti della struttura e diversi operatori sanitari. Una situazione seguita passo passo dal distretto sanitario mentre si valutano integrazioni di personale. È sotto controllo, è comunque un focolaio importante perché abbiamo più di 40 ospiti positivi e abbiamo 16 operatori positivi in questo momento. Le persone sono quasi tutte asintomatiche quindi in realtà vengono monitorate all'interno della struttura. Io ho attivato in appoggio l'USCA, quindi i medici dell'USCA vanno tre volte a settimana di default sempre nella struttura e su chiamata logicamente. qualsiasi ospite abbia sintomi intercorrenti di qualsiasi tipo viene tamponato col tampone molecolare per verificare se c'è poi una eventuale positività. Sono già stati fatti tutti i tamponi a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti e a cadenza di ogni 10 giorni, per vedere se il focolaio è spento o si sta accendendo ancora, vengono fatti questi tamponi. Per ora diciamo che i risultati sono buoni, nel senso che gli ulteriori a 10 giorni li farò fra un pochetto, quindi vedremo cosa succederà. Comunque la struttura è attenzionata, io effettuerò un sopralluogo domani con il Dipartimento di Prevenzione.